Eccoci qui da Caorle con il nostro Presidente del regionale Andrea Tronchin, un commento sulla serata di oggi o un'altra cosa a dirci? Stasera lo Scheck è stata una piccola rivoluzione, più siamo più la rivoluzione diventerà grande, buona rivoluzione a tutti! E vai, da Grafica Maya presente anche a Jesu, la Caorle, in buona compagnia con Feltre, con gli Alpini, con Antun, con l'Unescu, con la Gran Fondo Bellunese, con i Telai, con il Cosmi, il mitico Cosmi di Juan Castro, infatti non poteva mancare il Tuming ed è con lo Scheck, l'arte, l'invito del 13 luglio E qui le signore che commentano e chiedono informazioni, è l'ora, la piccola rivoluzione di Caorle è iniziata, 23 giugno è lì con la birra Castello, ciao!